Il giorno 28 domenica partiranno le corse dei battelli, la prima sarà alle 9.07 proveniente da Lecco e da questo momento partono tutte le varie corse che saranno una decina festive o qualcuna di meno feriale e questo ovviamente sarà un'opzione in più per i valmadreresi di muoversi e dal punto di vista turistico comunque un'attrattiva non solo per i valmadreresi. Stiamo aspettando dalla navigazione i cartelli con gli orari definitivi che verranno posizionati in prossimità del pontile e i biglietti verranno fatti direttamente sul battello. Come sono andate queste prime settimane di apertura del nuovo centro turistico di Parè? Beh diciamo che dal nostro punto di vista bene nel senso che quest'area è stata immaginata come un'area aperta quindi senza limiti e un servizio proprio per la cittadinanza e la cittadinanza ha apprezzato. È chiaro che magari ci saranno dei correttivi da fare, mettere più cestini, ci saranno poi una videosorveglianza però diciamo che le prime settimane hanno avuto un ottimo ritorno da parte della popolazione. Quali sono ora i prossimi lavori? A brevissimo partirà col cantiere per lo spostamento della strada. Questo è un lavoro che durerà a minimo sei mesi, contemporaneamente stiamo andando avanti con l'allestimento del bando per l'area privata e mi auguro entro quest'anno di avere il progetto esecutivo anche del Parco Urbano.